Ci siamo, è tutto pronto per la serata finale del concorso coreografico, la seconda edizione del concorso Belli Passi. Sono aumentate le richieste di partecipazione, sono aumentati i coreografi in gara per la serata finale, sono 13. Abbiamo aumentato i premi in quanto abbiamo diviso la categoria gruppi e la categoria assoli e passi a due. Belli Passi perché? Perché nel nostro teatro cerchiamo sempre l'innovazione, l'originalità, cerchiamo sempre qualcosa di nuovo su cui lavorare. Perché non anche tra i coreografi cercare nuove voci dopo il successo che c'è stato con il concorso Belli Corti di Nuova Drammaturgia. Sabato 23 marzo, ore 20 e 30, nuovo Teatro San Paolo. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!